Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti, si parte subito con Art Bonus, ovvero uno sgravio IRAP dal 40 al 60% per chi sostiene progetti culturali e paesaggistici. Poi è stata presentata la pubblicazione dell'anno di Consiglio, il volume che ripercorre 12 mesi di lavoro del Consiglio regionale. E poi l'edizione del premio Catarsini, dedicato alle persone con disabilità visiva, che avrà come tema l'anniversario della liberazione dalla dittatura fascista, l'ottantesimo anniversario. Il primo tema quindi ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, con l'approvazione all'unanimità delle aggivolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura popolare della Toscana. Questo è al centro del testo unificato, approvato all'unanimità, come abbiamo detto dal Consiglio regionale. e le novità riguardano l'innalzamento del credito di imposta IRAP. Dal 40 al 60% è stata ampliata la platea dei beneficiari, inserendo fra questi gli studi di fattibilità propedeutici, progetti di paesaggio e progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica. Devo dire che questo vantaggio fiscale collegato agli investimenti in campo culturale aveva già riscosso un certo successo ed è una norma ben congegnata. Con queste modifiche si vorrebbe consentire una migliore fruizione dei denari messi a disposizione dei contribuenti che vogliono usufruire di questo vantaggio sostenendo progetti culturali attraverso dei meccanismi che lo rendono più vantaggioso rispetto anche al solo finanziamento con Arbonus nazionale. Perché la nostra legge prevede di concedere il beneficio sia a chi ha ottenuto anche il beneficio nazionale sia a chi autonomamente chiede solo il beneficio regionale. Questi due rami della legge erano tra loro non comunicanti. Con questa proposta rendiamo comunicanti due capitoli di spesa in modo che se se ne esaurisce uno si possa passare le risorse a finanziare l'altro e si innalza la percentuale del vantaggio fiscale al 60%. Poi ci sono delle novità invece di contenuto che riguardano sia i progetti finanziabili con Arbonus sia aggiunto tutto il tema della progettualità legata al paesaggio sia abbiamo recepito un indirizzo del Consiglio che chiedeva di inserire tra i progetti culturali finanziabili quelli inerenti il tema delle rievocazioni storiche. Con questi meccanismi di miglioramento che sono stati possibili appunto perché ci ha lavorato chi allora fu relatore della legge, cioè il collega Anselmi, abbiamo secondo noi consegnato nell'ambito degli stati generali della cultura ai nostri cittadini e cittadine toscani un bel vantaggio e devo dire anche agli operatori culturali l'occasione di ottenere delle risorse per finanziare la cultura che sempre di più per noi è da considerarsi un motore di sviluppo un elemento strategico della nostra programmazione regionale e non un centro di costo per una cosa bella bellissima ma che si fa solo quando le risorse avanzano. Con questa legge noi continuiamo a mandare un messaggio chiaro, investire in cultura vuol dire investire in lavoro, investire in sviluppo del territorio e generare poi anche un indotto che è quello dei visitatori che vengono a vedere le nostre meraviglie. Una normativa necessaria per migliorare, per agevolare i finanziamenti a favore delle esperienze artistiche culturali, un'iniziativa che nasce dalla commissione nella quale anche io faccio parte, il lavoro capillare che migliora e rende più concreto il sostegno a iniziative culturali e artistiche. È una norma che va nella direzione corretta che anche noi come il partito di Italia Viva abbiamo sostenuto e voluto condividere con i nostri alleati di governo soprattutto per migliorare quello che è l'opportunità di un finanziamento diretto o indiretto a favore di tutte quelle iniziative di carattere culturale e artistico molto presenti nell'ambito della nostra regione toscana. Ci abbiamo lavorato facendo parte io e la collega Elena Rosignoli del Comitato delle Evocazioni Storiche della regione toscana come consiglieri regionali, abbiamo lavorato e abbiamo portato una mozione in consiglio regionale che fu votata all'unanimità e che oggi diciamo viene integrata in questa modifica alla legge regionale. Quindi si passa dal 40 al 60% di detrazione fiscale. Crediamo che sia un grande stimolo per cui sia i privati che le aziende possono finanziare con delle cifre le rievocazioni storiche e lo possono portare in detrazione con un'erogazione liberale. È stato un anno complicato, così lo ha definito il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzano durante la presentazione del volume Un anno di Consiglio che racconta il percorso dell'Assemblea legislativa toscana dal 19 ottobre 2023 al 19 ottobre 2024. All'interno troviamo anche il drammatico periodo dell'alluvione del scorso autunno, la tragedia del cantiere in via Marite a Firenze e la prematura scomparsa del consigliere Massimiliano Pescini. È stato un anno difficile, eventi alluvionali, tanti purtroppo hanno sconvolto la nostra regione provocando anche diversi morti. È stato un anno difficile anche per la sicurezza in luoghi di lavoro, pensate quanto è accaduto in via Mariti, ci porta a porci tante domande e a cercare tante risposte. È stato un anno che ha visto purtroppo nella nostra comunità perdere una di quelle persone che ci sanno dire cos'è la buona politica, Massimiliano Pescini. Se ne è andato un amico prima ancora che un collega. Massimiliano rappresentava davvero la politica quella bella, quella fatta nei territori, quella fatta di ascolto, di confronto e ne sentiamo tutti la mancanza ma allo stesso tempo viviamo, come dire, il suo esempio come esempio di impegno nelle istituzioni. Abbiamo voluto dedicare quest'anno di mandato proprio a lui. È stato un anno in cui abbiamo fatto anche tanto. In questi quattro anni, pensate, abbiamo investito più di 8,4 milioni di euro in quattro anni. Per il bilancio del Consiglio regionale è tanto sui nostri territori per dare risposte soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. Lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica, efficientizzando, gestendo meglio. Si può fare ed è un lavoro collettivo. Ringrazio tutto l'ufficio di Presidenza, ringrazio tutti i capigruppo, tutte le forze politiche, le colleghe e i colleghi consiglieri regionali. C'è un numero che io voglio sottolineare, 95% di presenze, un numero elevatissimo anche se paragonato ad altri consiglieri regionali. Io in ognuno di loro vedo l'impegno senza distinzione tra maggioranza e minoranza per le proprie comunità, l'attenzione agli altri. La festa della Toscana dello scorso anno abbiamo dedicato a Don Lorenzo Milani. In quella I care, in quel prendersi cura, prendersi cura degli altri, ci sta esattamente l'impegno delle colleghe e dei colleghi consiglieri regionali, a cui va il mio grazie più sentito, anche per come sono state affrontate le questioni più complesse. Anche nelle differenze tra maggioranza e opposizione c'è stato un rispetto reciproco che è anche esempio di come ci si impegna. E poi noi questo anno lo abbiamo voluto sviluppare tenendo insieme la memoria con il futuro. Il Presidente Mattarella ci ha onorato il 25 di aprile della sua presenza a Civitella Valdichiana ci ha detto che non c'è futuro senza memoria. E allora il finanziamento per le iniziative sugli 80 anni della liberazione, le stragi nazifasciste e poi tutta la sfida del disegnare la Toscana del domani, Toscana 2050, Casa Toscana a San Francisco, il sostegno alle start-up, insomma innovazione e tradizione che si tengono insieme e questa è la sfida e la strada da portare avanti. Manca un anno alla fine della legislatura e io mi auguro, ed è questo quello che chiedo alle colleghe e ai colleghi, di continuare anche quest'ultimo anno a lavorare così. Un anno molto positivo per l'attività del Consiglio regionale, per l'attività delle commissioni, per l'ufficio di Presidenza. Un'ottima collaborazione con il nostro Presidente Antonio Mazzeo e con tutto l'ufficio che ha dimostrato quanto il Consiglio regionale sia presente anche in tante iniziative di rappresentanza e non solo di promozione delle nostre aziende, se pensiamo all'iniziativa di San Francisco, se pensiamo al rapporto con l'Europa, alle iniziative a favore dei giovani, alla riscoperta della loro identità, ragazzi e ragazze che sono diventati protagonisti della relazione con il Consiglio regionale, le iniziative della memoria, il riconoscimento dei valori dell'identità toscana, della nostra storia, partendo da quella degli Etruschi e non solo, gli 80 anni della liberazione, tante questioni che hanno portato e visto il Consiglio regionale della Toscana protagonista, tanto sostegno al mondo delle associazioni, al mondo della cultura, dello sport e delle amministrazioni comunali. Quindi un'iniziativa che avviene nelle aule di questo palazzo, che sempre di più si è aperto ai cittadini toscani e non solo, ma che ci ha visto protagonisti anche all'esterno e questa è la caratteristica della Regione Toscana, del Consiglio regionale che rinnova il proprio impegno come soggetto istituzionale. È stata presentata la ventitresima edizione del premio Catarsini dedicato alle persone con disabilità visiva. Il tema di questa edizione è la concomitanza dell'ottantesimo anniversario della liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista e si ispira a due cicli di affreschi che Catarsini realizzò negli anni 44 e 45 proprio in Lucchesia. È bello poter ospitare qui la ventitresima edizione del premio Catarsini. È uno di quegli artisti che hanno portato in alto il nome della Toscana, un artista che anno dopo anno viene sempre più riconosciuto ed è bello che questo premio si apra alle nostre ragazze, ragazzi più giovani, alla loro capacità di saper stare sulla frontiera del cambiamento che anche l'arte è in grado di saper produrre ed è qualcosa di unico il fatto che questi elaborati vadano nella direzione di far conoscere e vivere l'arte anche a chi non può vederla. Proviamo tutti, lo dico anche a chi ci segue da casa, chiudiamo gli occhi e mettiamoci nelle condizioni di una ragazza e di un ragazzo che non può vedere l'arte ma può sentirla, può toccarla. Qui c'è davvero la potenza, la bellezza di questo premio e qui ci sta anche la voglia da parte di chi lo organizza di saper stare e saper tenere insieme l'arte, il sociale, i giovani. Anche quest'anno la Fondazione ha deciso di premiare opere tattilmente esplorabili e saranno ispirate quest'anno a due cicli di affreschi di Catarsini, uno di San Martino in Freddana del 1944 quindi realizzato proprio in quella ahimè famigerata estate del 44 e il ciclo di affreschi di Castagnoli invece del 1945. Quindi siamo agli 80 anni della liberazione, due iconografie assolutamente diverse di questi affreschi e i ragazzi saranno chiamati a cimentarsi con questa nuova avventura. È da molto tempo che collaboro a titolo personale ma anche come direttore regionale dei musei con la Fondazione Catarsini e uno degli aspetti più interessanti dell'attività di questa fondazione è proprio la disponibilità a rendere accessibili, a fare iniziative che possano rendere accessibili il patrimonio culturale a persone con disabilità, in questo caso per la cecità. È un tema molto importante anche in generale per i musei, infatti vi sono iniziative nei musei statali, c'è il Museo Mero ad Ancona che è dedicato a questo, nei nostri musei facciamo nel possibile delle attività di questo genere. Però devo dire la Fondazione Catarsini con l'entusiasmo che caratterizza la Presidente René Martinelli è molto avanti in questo proprio con la volontà di creare attraverso anche il rapporto con le scuole delle iniziative è un premio che è mirato appunto a individuare degli elaborati, delle opere che possono essere poi rese accessibili attraverso il tatto e altre forme alle persone con disabilità visiva, quindi è un'esperienza assolutamente importantissima che si allinea con quello che dovremmo fare tutti noi nei musei, il tema dell'accessibilità in tutti i livelli, da quella cognitiva a quella fisica e questo è un tema che effettivamente è all'attualità di oggi. Noi abbiamo mandato alle scuole il banto per poter partecipare a questa iniziativa importantissima e riteniamo che è un'esperienza molto bella per gli studenti e per le scuole perché appunto è un esempio sia di educazione civica che di esperienza diciamo nel settore dell'arte quindi in questo momento è molto importante. Trovare un museo che consente l'accessibilità magari per disabilità visiva significa trovare un museo che rispetta degli standard qualitativi ma che deve rispettare a tutti gli effetti diciamo delle linee guida che ora fanno parte proprio delle direttive che impartisce il Ministero Cultura. Ecco, volevo solo ricordare che per quanto riguarda la Fondazione Catarsini c'è stata l'opportunità di presentare le attività della Fondazione recentemente presso il Museo Omero di Ancona che è un'eccellenza, è considerato un'eccellenza a livello internazionale quindi insieme alla Presidente Elena Martinelli è stato presentato questo progetto e quindi vogliamo far conoscere le attività della Toscana non solo all'interno della Toscana ma anche in altre regioni affinché venga preso questo esempio come esempio virtuoso. E questo era anche l'ultimo argomento per questa settimana, grazie per essere stati con noi, l'aggiornamento e tutte le notizie le trovate sul sito www.inconsiglio.it Grazie, tra sette giorni saremo ancora insieme dentro il Consiglio.